Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo dove andremo a vedere su come si predispone il collegamento internet sul nostro modem TP-Link TD-W1980 per la connessione ad internet sia DSL che fibra ottica infatti questo router ha sia la possibilità di collegare l'ADSL normale che la fibra ottica tipo tutto fibra di Telecom infatti utilizza due protocolli, quello ADSL normale e VDSL ora innanzitutto dobbiamo andare a configurare il nostro collegamento ad internet quindi ci dobbiamo spostare nella pagina 192.168.1.1 e premere invio a questo punto verremo rirenderizzati in un'altra pagina web, quella del nostro router per entrare all'interno ci servirà un username e una password, di solito quelli default sono admin quindi entriamo all'interno a questo punto ci troviamo davanti a questa schermata la schermata delle configurazioni e delle informazioni in diretta infatti viene aggiornata ogni circa 5 secondi sulla lunghezza di banda sul trasferimento dati e altre informazioni utili per il nostro router in questo caso dobbiamo andare in quick setup quindi premiamo next qui dovremo selezionare regione e tempo, timer, cioè orario della regione quindi in questo caso Italy e Greenwich io non cambio queste impostazioni a parte per Italy qui dobbiamo selezionare se il nostro router lo vogliamo far diventare un hotspot quindi per un ripetitore wireless oppure un XDSL che in realtà vuol dire sia ADSL che VDSL in questo caso noi selezioneremo questo facciamo next qui ci troveremo dentro a un protocollo che di solito vengono selezionati già tutte le linee in Italia c'è Tiscali, Alice, Libro, Tele2, Telecom Italia, Aria, Eli, Fastweb, TIN che è Virgilio, Aruba, Nexta, Telvian e MCLink come vedete abbiamo vasta scelta però per chi ha come me super internet della telecom è Telecom Italia ADSL a questo punto verrà selezionato in automatico il protocollo PVC, la connection tape e l'excapsulation mode quindi farà tutto lui, non dovremo andare a inserire noi i dati a questo punto ci troveremo una schermata di login della nostra rete di conseguenza dovremo andare a inserire l'username che ci viene dotato insieme al nostro abbonamento che di solito è Alice ADSL e password Alice ADSL quindi non cambia e dovremo anche confermare la stessa password con quella sopra una volta fatto ciò andiamo con next qui dovremo andare a selezionare il nostro primo nome per la rete da 2,4 GHz in questo caso io ho scritto computer museo poi dovremo andare a impostare la sicurezza che come vedete è stata completamente tolta con la web e abbiamo solo il tipo WPA, PSK e WPA2 che è quelli più raccomandati oppure possiamo anche lasciarla libera però questo ve lo sconsiglio vivamente facciamo next e verremo anche reindirizzati su una seconda pagina però questa volta per i wireless a 5 GHz c'è il wireless che verrà utilizzato solo da smartphone da cellulari, tablet e anche da dispositivi portatili quindi in questo caso noi abbiamo selezionato computer museo a 5 GHz smartphone che apparirà solo sui nostri telefoni sui computer non verrà visualizzata sui Mac credo di sì perché ho visto nelle ultime versioni i Mac che legge pure i 5 GHz quindi in multibanda facciamo una volta che abbiamo fatto tutto ciò facciamo il next e a questo punto abbiamo inserito tutti i parametri non dovremo nient'altro fare che salva io non lo faccio in questo caso perché andrei a cancellare il protocollo che c'è adesso e quindi dovrei azzerare il mio router però basterà fare salva e avrete la vostra linea in pochissimi secondi collegata dopo aver detto tutto questo io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo ciao ciao